Molto bene, siamo in perfettissimo orario, da roba da non credere, e quindi cominciamo con la nostra introduzione, la introduzione della Federazione Italiana Piccoli Editori, di giornali locali, per inquadrare un pochettino il tema di oggi. I giornali locali del Piemonte, oggi, quest'anno, vivono il loro ventesimo anno di attività associativa. La FIPEG, infatti, è nata nella primavera del 1994. In questo incontro si intende guardare al futuro, partendo dal presente, e dalle sfide vinte in questi anni, in questi soli vent'anni. L'Associazione di giornali locali è nata per l'intuizione di un piccolo gruppo di editori. Era un'iniziativa di difesa, anche qui una sfida, voluta da aziende che si trovavano sempre più schiacciate tra la debordante concorrenza della grande editoria, e l'accumularsi di pesi normativi e contrattuali sempre più grevi, sui quali non vi era stata mai la minima possibilità di incidere da parte nostra, cose che ci cadevano un pochino sulla testa, anche un pochino tanto. Erano giornali, e sono ancora tuttora giornali, diversi tra loro per storia, per sorgente, per cultura, ma con un identico denominatore comune, le tre T di Torino, territorio, tradizione e, guarda caso, tecnologia. Dopo vent'anni, dopo vent'anni solo, sono iscritti alla FIPEC poco meno di 60 giornali nel solo Piemonte, con 600, ed è stato già ricordato, con 600 mila copie diffuse e due milioni e mezzo di lettori. Abbiamo ottenuto la pari dignità con i quotidiani nella consegna dei nostri giornali in abbonamento, difendendo immediatezza e freschezza. Abbiamo vinto la sfida della professionalità, spingendo per abbattere la barriera che impediva ai nostri redattori di diventare professionisti. Abbiamo esplorato nuove strade sulle garanzie normative e contrattuali, assumendo e regolarizzando decine di collaboratori, in un periodo in cui, nelle editrici più strutturate, gli organici venivano decimati. Oggi, i giornalisti che collaborano e lavorano nei nostri giornali, nel solo Piemonte, complessivamente, superano di gran lunga coloro che lavorano nei quotidiani. Abbiamo creato un rapporto con l'istituzione regionale che non era nemmeno pensabile vent'anni fa, ottenendo un riconoscimento incondizionato e senza pregiudizi, che trova l'espressione più efficace nella legge sull'editoria regionale, numero 18-2008, approvata all'unanimità dai gruppi politici, e nel costante utilizzo dei nostri fogli per la comunicazione istituzionale. E abbiamo vinto anche la sfida sulla tecnologia. Spuntavano allora, nelle redazioni, i primi computer, con programmi dedicati all'editoria, con grandi perplessità interne, per la ridotta capacità allora, per la ridotta capacità funzionale, e per quella sorta di resistenza al nuovo che emerge dovunque in queste circostanze. Nuovi modi di lavorare, nuovi rapporti interni, rivoluzionato il sistema di scrittura, l'impaginazione, la fotografia, l'archiviazione, l'accesso alle informazioni, basta pensare a internet. Ecco, si aprivano le porte a nuove professionalità, mentre ne scomparivano altre. Si riduceva la dipendenza organizzativa e tecnica, e logistica, dalle tipografie, obbligate anche loro, per stare sul mercato, a rinnovarsi, offrendo soluzioni innovative sul colore, i formati, i tempi di trasmissione, la possibilità di accogliere allegati, editoriali e non. Oggi, oggi, non si colgono differenze tecnico-organizzative, se non per le dimensioni, tra le nostre redazioni e quelle editrici, e quelle delle editrici più blasonate. Vent'anni fa, la vendita dell'informazione stampata, dopo aver raggiunto l'apice, iniziava la curva discendente. In quella situazione di mutamenti e trasformazioni che chiudevano un'epoca, i nostri giornali hanno saputo cogliere le opportunità, svecchiarsi, riorganizzarsi, trovare e creare nuove risorse. Oggi, nel solo Piemonte, le testate giornalistiche locali superano una sessantina, quindi sono di più di allora. Quindi abbiamo dato la possibilità anche di nascere, come abbiamo visto prima. Impiegano centinaia di giornalisti, centinaia di grafici ed amministrativi, e alimentano un indotto nella pubblicità e nella stampa di grande rilevanza, con un'attività economica, quindi non uno scherzo, che si stima per difetto sui 100 milioni di euro all'anno. In Piemonte, ma non solo in Piemonte, i giornali periodici hanno una funzione sociale e culturale, come è stato anche rilevato da chi mi ha preceduto, di tutta evidenza. Essi realizzano sul serio, a livello locale, il principio delle informazioni democratiche e libera, ma non perché queste testate siano più democratiche e libere di altre, ma perché insieme costituiscono una pluralità di voci, e la pluralità delle voci è fondamento della democrazia. Per dire che in certe piazze e in certe nostre piazze vengono pubblicati fino a tre giornali davvero indipendenti fra loro. Questo è il quadro delle sfide che i giornali di informazione locale del Piemonte hanno raccolto e vinto in questi vent'anni di attività della FIPEG. I protagonisti, sia chiaro, ieri, oggi, domani, sono i singoli giornali, che però insieme con la loro associazione hanno creato le condizioni per rendere il cammino meno difficile per tutti, anche per i non associati, come ovvio che sia. E in questo percorso hanno trovato nell'istituzione regionale, e a Torino anche in quella provinciale, un interlocutore attento e premuroso, pronto ad accogliere proposte e idee innovative che hanno consentito, prima di altri, di aprire alle nostre notizie gli stretti confini dei rispettivi territori. Commenti locali, i nostri fogli vengono letti in tempo reale negli uffici della Regione, facendo scomparire l'oiato della distanza e rendendo al nostro lavoro la ricchezza che deriva dall'immediatezza. Non solo, entrando nel sistema informativo della Regione, i nostri fogli hanno potuto finalmente riprendere i fili del rapporto con i nostri connazionali sparsi nel mondo, un vincolo oggi ancora più forte con le opportunità create dalle nuove tecnologie. Guardiamo all'oggi. Mutatis mutandis, come si usa dire, ci troviamo nuovamente di fronte a un cambiamento epocale nel modo di usufruire dell'informazione e della comunicazione, in un contesto però più difficile di quello di vent'anni fa, a causa della crisi economico-finanziaria, della disaffezione generale per la carta stampata, che finora abbiamo, che noi tutto sommato abbiamo arginato, ma potrebbe divenire un problema nel prossimo futuro, per l'attenzione delle giovani generazioni verso l'informazione online. Dieci anni fa, o poco più, si guardava con una malcelata soddisfazione, abbiamo fatto un incontro a Vercelli con il Presidente dell'Ordine di allora, dicevo, si guardava con malcelata soddisfazione la serie di fallimenti di giornali online americani, soprattutto sul piano economico, ma anche su quello degli accessi. Dieci anni dopo è cambiato tutto, la tecnologia si è perfezionata, i costi sono accessibili, i risultati apprezzabili, quantomeno nella fidelizzazione dei lettori. Ma facciarsi di nuovo attori, questa volta seri e strutturati anche nella informazione locale, il particolare approccio del mondo giovanile ci hanno obbligato a rivedere il nostro atteggiamento, talora di sufficienza e di resistenza. Molti nostri giornali hanno già da tempo un sito, pubblicano notizie, se non addirittura il giornale, in pdf, vendono abbonamenti per l'edizione online, provano a realizzare un quotidiano in digitale. Ecco, questo pomeriggio parleremo proprio di questo, dei problemi e delle opportunità che questa rivoluzione comporta. Per dare ordine ai nostri lavori abbiamo diviso gli approfondimenti in due tempi. Nel primo sentiremo proposte ed esperienze di aziende di respiro internazionale, nazionale, regionale e locale, di come si può coniugare al meglio le esigenze del territorio e della tradizione con l'innovazione e la tecnologia. Sentiremo anche l'esperienza di un piccolo network di giornali locali online, un'iniziativa che potrebbe essere vista come concorrenziale rispetto alle nostre attività. Però credo che non sia opportuno fare la politica degli struzzi e credo che dobbiamo sapere confrontarci. Sentiremo poi dal CSI Piemonti gli aggiornamenti sulla piattaforma giornalistica piemontese, nata e cresciuta in simbiosi con i giornali locali. Concluderà la prima parte un aggiornamento sul progetto della digitalizzazione degli archivi giornalistici della regione importante sul piano culturale, storico e accademico. Dopo un congruo intervallo, il coffee break sarà offerto dalla dicta axiana che è attiva nell'informatica editoriale qui in Piemonte. Abbiamo qui il dottor Monzani che è gradito ospite. Potremmo anche godere delle bellissime immagini delle piazze piemontesi con una mostra riallestita per l'occasione. Poi riprenderemo con la tavola rotonda che vedrà protagonisti gli attori principali delle nostre testate, che sono gli editori e i giornalisti. Silvano Esposito, direttore del Bialese, guiderà e solleciterà una carrellata di esperienze di persone che vivono in trincea questa difficile, ma credo tutti insieme siamo d'accordo, tuttora entusiasmante e avventura. Voglio concludere con un po' di ottimismo, sincero peraltro, non rituale. Riteniamo tutti insieme che ci siano tuttora prospettive favorevoli per i nostri giornali, grazie anche alle nuove tecnologie. L'importante è che ciascuno degli attori giochi fino in fondo il proprio ruolo, nella chiarezza e nella trasparenza degli obiettivi, con intelligenza e con volontà concreta. Grazie e buon lavoro a tutti noi. Adesso inviterei la dottoressa Maria Vittoria Giancola, che è responsabile dell'editoria digitale di Telecom. Telecom, voglio dire, poi si dice che non siamo di attualità, più di attualità così, non so, probabilmente già sei mesi prima noi sapevamo che Telecom qui avrebbe creato parecchia attenzione. Grazie. Grazie. Grazie.